e dunque è partita la seconda serie dei cento misti femminili fanno ora il loro ingresso in piano vasco alle ragazze della prima presenteremo più tardi e loro nomi naturalmente in vasca la marine corsia numero quattro nonno tempo di iscrizione per lei vediamo la situazione dopo le prime due frazioni in archivio il dorso viola magoga conduce alle sue spalle la pizzola in sei e l'amazzoni in cinque alla prossima e dunque siamo nella vasca conclusiva stile libero e risalita con la rana samanta l'amazzoni a gestire con lo stile sempre la magoga però in sette a darle fastidio l'amazzoni su magoga uno cinque novantatré uno sei e zero nove rispettivamente poi monica pizzol terza uno sette e quindi